Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Arduino Schenato da yearforex.com e in questo video voglio parlare del massimo rischio, dello stop loss e della gestione di questo rischio. Allora, troppe volte siamo spesso, diciamo, di fronte a quelle che sono le classiche modalità di gestione dello stop, di gestione del rischio e tante volte, vedendo un po' quello che mi iscrivete, quello che si vede in giro, spesso si parla dello stop loss come il punto dove si viene presi per poi rivedere la posizione che va dalla parte nostra. O cose di questo tipo, tipo lo stop loss non deve essere usato perché sennò ti vengono a prendere, insomma cose che vanno sempre nei pressi dello stop loss come nemico perché spesso è un fattore di perdite magari inaspettate oppure che viene preso per motivi futili, diciamo. Allora, io sinceramente vi dico che in ottica sempre di swing trader, quindi di chi fa un trading diciamo multi day, multi week spesso, dobbiamo quindi ragionare come se fossimo un hedge fund per dire, cioè se io devo fare trading e devo cercare di investire i miei soldi e far sì che questi soldi abbiano, diciamo, nell'investimento si abbia una plusvalenza, quindi si riesca a guadagnare, si riesca a creare valore da questo investimento, dobbiamo pensare che lo stop loss ci viene fornito, diciamo, si può utilizzare, ma deve essere utilizzato nei giusti punti, deve essere utilizzato dove la posizione fallisce, diciamo, dove la nostra view fallisce realmente, non perché magari prende un punto, veniamo poi buttati fuori dal mercato, ma in realtà quella fotografia del mercato non è cambiata, rimane uguale, ecco perché questo video va incontro a tutte quelle persone che magari fanno price action o comunque approcciano al trading, diciamo, a modo year forex, a mio modo, e sono comunque ancora, come dire, combattuti con la propria gestione del rischio. Allora vi dico che in linea di massima, prendo per esempio il grafico che ho qui davanti dell'oro, ma potrei prendere l'euro, potrei prendere la sterrina, potrei prendere il petrolio, l'S&P 500, non cambia nulla. Quello che voglio mostrarvi è che una volta stabilita la struttura del mercato, una volta stabilito come si vuole operare su questo mercato, in base a quelle che sono le caratteristiche e le informazioni della struttura, che vi ripeto, per il mio metodo, per il mio metodo che lavora con la price action, ma non è la price action che vedete magari ovunque, cioè nel senso è la mia price action, necessita di quattro punti fondamentali, che sono legati alla struttura e che sono la tendenza, se c'è una tendenza e di che tipo, la volatilità e quindi gli swing che ci sono, i livelli di domanda e offerta e i trigger, o comunque le informazioni del prezzo delle ultime barre. Queste quattro caratteristiche, che potrebbero essere cinque se gli swing li mettiamo in un punto a sé stante, ma comunque fanno parte del metodo, una volta che si legge esattamente qual è la struttura del mercato in questo modo, è ovvio che io so quindi come operare, però dovrò anche sapere dove inserire lo stop, perché spesso vogliamo inserire degli stop loss troppo stretti e questi stop loss troppo stretti non danno spazio alla posizione di crescere, di andare, di far sì che ci dia ragione o meno. Come non è corretto non inserire proprio lo stop loss o comunque non sapere dove si deve stoppare la posizione nel caso in cui la posizione non va nel mio verso, cioè nel verso diciamo che mi ero prestabilito, mi ero progettato. Quindi se voi per esempio prendete questo grafico settimanale dell'oro, potete ben capire che è molto chiara la situazione, cioè nel momento in cui il mercato parte con una tendenza abbiamo delle situazioni dove lui tende a fare o lateralità o pullback e in queste tendenze, come si dice, in queste pause della tendenza si avrà la possibilità di farci un trade o comunque di impostare un trade con degli stop loss seri, sani. Per esempio guardate un po', prendo il grafico daily, quindi si può ovviamente andare sul daily, ma sempre con una view settimanale, voi potete ben capire, eccolo qua, da qui, perfetto. Questo è il daily e questa è la stessa cosa dal settimanale. Vedete che sul daily magari noi abbiamo delle situazioni in cui probabilmente potremmo entrare. Ecco che se io mi trovo di fronte a una situazione sul daily, per esempio potrebbe essere questo trigger, ma in questo caso mi trovo con, non so, lo stop loss che sul daily andrebbe riportato qui, è ovvio che se guardo il settimanale, dovrebbe essere qui, andiamo a vedere se questo è 2 agosto, no marzo. Aspettate, 1 agosto 2019, luglio-agosto, eccolo qua, luglio-agosto, aspettate, agosto 2019, agosto 2019. Quindi è praticamente questa, no? Se io vado a prendere qui, anzi facciamo così, eccolo lì, vedete? Questa qui è questa qui. Quindi provate a vedere, no? Se io vado a prendere questa poi come trigger, quando vado a comprare l'oro, per esempio in questo caso, l'ultimo swing, è vero che poi diventa questo, ma l'ultimo swing inizialmente è qui. Quindi io devo andare, bene o male, ad avere il mio massimo rischio che deve essere impostato proprio su questa zona. Ha senso, no? Perché è proprio lì dove ci sono probabilmente le possibilità di vedere una certa situazione. e sempre, quindi le conferme che possiamo avere sul settimanale devono essere poi sul daily, guardate, impostate, ma gli stop, non metteteli classici come li mettono tutti, cercate di guardare bene qual è il punto, perché potrebbe anche non essere per forza uno swing, ma il punto più importante dove, se dovesse uscire da quella zona, diciamo che la tendenza di quel momento cambierebbe a favore di un'altra tendenza, almeno nelle poi giornate successive, e potrebbe avere anche un movimento più ampio magari dalla parte opposta. Ecco che allora iniziate a ragionare in maniera da mettere degli stop intelligenti, non per forza gli stop al percentualmente, al 2% dal prezzo, all'1% dal prezzo, o stop esattamente sotto il minimo fatto sul daily, che può essere sicuramente importante, ma guardate sempre la big picture e cercate di capire dove esattamente lo stop va inserito. Al di là del segnale daily, che potrebbe essere il nostro timing, ma lasciando un po' più spazio e quindi avendo un massimo rischio inserito sulla nostra posizione, poi ci può permettere anche di uscire prima. Non è detto che dobbiamo andare a colpire quel massimo rischio, possiamo poi vedere che la scena in effetti è cambiata e lì perderemo meno, quindi avremo un costo minore della posizione. Quindi anche in ottica di gestione del rischio, del rischio rendimento, diventa molto interessante questa cosa, perché poi spesso le posizioni magari potrebbero essere chiuse anche prematuramente, anche a costo, quindi in perdita, ma con delle perdite sicuramente minore. Questo era un trick che voglio darvi, è un qualcosa su cui sto ragionando e facendo da un po' di tempo e che mi vedrà sicuramente nel 2021, anche nel Platino, lavorare sempre di più in questo modo, perché ha molto senso, almeno per il mio modo ovviamente di ragionare e per il mio approccio al trading. Io spero che questa pillola di trading vi sia piaciuta, non mi resta che augurarvi una buona continuazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.